Ciao ragazzi, oggi sono qui in questo nuovo video per consigliarvi tre anime di genere fantasy. Ho deciso questi tre anime solo in base ai miei gusti personali, inoltre non ve li consiglierò in ordine di preferenza in quanto nessuno dei tre spicca sugli altri due, ma bene o male sono tutti sullo stesso piano. Come per ogni video in cui vi consiglio degli anime, anche questi tre hanno qualcosa in comune. In questo caso è la presenza di un protagonista con il ruolo di eroe sin dall'inizio dell'opera e con un ruolo nella storia ben specifico. Ovviamente se il video vi piace vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non siete iscritti in modo da non perdervi i prossimi video che usciranno. Inoltre vi invito a commentare con l'anime dei tre che vi ha colpito di più. Detto questo, iniziamo. Il primo anime di oggi è molto particolare. Si discosta abbastanza dal tipo di eroe classico di cui sentiamo spesso parlare, anche se in realtà tutti e tre gli anime di oggi hanno una loro visione personale di cosa è un eroe. Questo anime nello specifico narra le vicende di Akatsuki, un eroe appena ritornato da un mondo fantasy sulla terra portando con sé Miu, la figlia del re dei demoni che lui ha sconfitto. I due saranno costretti a frequentare l'Accademia Babel, una struttura che accoglie altri eroi come lui in possesso di poteri particolari. C'è da dire che Akatsuki non è un eroe ordinario, in quanto fa ciò che lui personalmente ritiene giusto e non ascolta nessuno. Dei tre è quello che preferisco di meno, in quanto non sono un fan dell'ecci inserito a caso, o meglio, mi spiego. Intendo o tantissimo come pre-school di per di oppure quasi nullo, quindi non mi ha attirato per quello quanto per la trama che è veramente interessante e soprattutto per il design del protagonista. Ovviamente non aspettatevi troppo da quest'opera perché resterete delusi in quanto è un anime che bisogna non prendere troppo sul serio. Quando il Magin si risvegliò dal suo sonno profondo negli abissi dell'oscurità, le divinità del fato scelsero sei eroi e donarono loro immensi poteri affinché potessero salvare il mondo. Adlet, un ragazzo che ritiene di essere il più forte del mondo, viene selezionato per diventare uno degli eroi dei sei fiori e si reca presso il luogo indicatogli, in cui dovrà incontrare gli altri cinque predestinati. All'appuntamento però si presentano in sette e ovviamente uno di loro deve essere il nemico che cerca di infiltrarsi tra gli eroi. Il problema è che i sospetti cadono subito su Adlet, anche se di poco, in quanto come vi ho detto sono bene o male tutti e tre sullo stesso piano, Roccano Yusha è quello che preferisco. Dal protagonista ai personaggi di contorno, il character design soprattutto del nostro Adlet è veramente figo e la trama personalmente ha un buon sviluppo, anche se l'anime non raggiunge un'effettiva conclusione. La dea Ristarte, suprema autorità del mondo di Geirbrund, evoca un eroe al suo fianco per salvare un mondo che le è stato affidato dalle altre dee. Il suo nome è Seiya, un umano con un corpo estremamente allenato e con delle capacità da eroe fuori dal comune. Eppure quando deve combattere anche contro uno slime non esita a prendere ogni precauzione possibile. Per esempio ama avere un'armatura per il tempo libero, una per la battaglia, una di scorta e prima di qualunque combattimento preferisce prendere più precauzioni possibili e allenarsi fino all'ultimo secondo disponibile per evitare qualunque tipo di problema. Questo è un anime molto figo, lo ammetto. Gli episodi finali sono stupendi e adoro come un mondo di questo tipo che dà spazio a possibilità infinite si è usato così bene. Inoltre c'è da dire anche che mostrarci l'effettivo rapporto fra questi due personaggi, Seiya Ristarte, all'inizio ha delle basi valide dato ciò che mostra il finale. Quindi non viene usato solo per dare spazio a scene divertenti e basta. Inoltre per quest'opera sono riusciti a sfruttare benissimo sia il protagonista e le sue manie sia l'ambiente senza usare troppi escamotaggi narrativi per giustificare determinate azioni. Sì, sembro troppo vago ragazzi, ma è solo per non farvi spoiler. Comunque sì, ve lo consiglio tantissimo.